Benvenuti, benvenuti a tutti nella nostra piazza in Piazza Ferretto Da oltre 100 anni la squadra che indossa i colori e il simbolo della nostra città è qui Questa sera siamo sotto le feste, una Piazza Ferretto veramente tirata a lucido Per accogliere i nostri giocatori, la nostra squadra per chi non lo sapesse è nata nel lontanissimo 1909 Ha sempre rappresentato la nostra città con varie vicissitudini Come purtroppo succede e è successo anche per tante altre squadre storiche Parliamo a livello nazionale ma anche vicino a noi ci sono stati momenti bui La squadra è sparita ma è rinata recentemente Grazie a due formazioni che si sono riunite perché avevano gli stessi colori e gli stessi obiettivi E da tre anni è arrivato il nostro grande presidente che pensate è riuscito a portare questi colori Dove da tanti anni non riuscivano a militare Quindi siamo tornati da quest'anno tra i professionisti della Serie C Dopo una grande grande cavalcata lo scorso anno tutti i giornali hanno parlato del mestre dei record Abbiamo stravinto il campionato di Serie D e finalmente siamo tornati dove forse la città più merita in Serie C Quindi come sapete in molti se non in tutti siamo costretti nostro malgrado a giocare lontani dalla nostra città Ma io che ho un po' il polso della situazione, vivo mestre da sempre praticamente Sento sempre di più che la città segue se non direttamente allo stadio Giochiamo la stadio di Portogruaro, però segue da vicino le vicende del nostro mestre Quindi è per noi un onore, ringraziamo ancora il Comune di Venezia e ancora Vela per l'invito di essere qua questa sera È per noi un onore essere qui questa sera a farvi gli auguri La cerimonia sarà particolarmente informale nel senso che daremo evidentemente voce ai veri protagonisti della nostra società Ma scusate io non sono informissima quindi ogni tanto ci sta un colpo di tosse Direi già di chiamare sul palco prima della squadra e quantomeno citare velocemente Scusate, li conosco bene tutti però non vorrei fare gaff Non so se ci sono tutti comunque io direi in ordine sparso, non offendetevi e non certo di importanza Adriano Nezzai, prego Adriano vieni vieni Lui è il nostro vicepresidente, Luca Martignon Poi fresco di nomina Enrico Busolin, il nostro direttore sportivo Segretario generale, nonché factotum della società Vieni con noi anche tu Stefano Non so se c'è l'amabile Vendramin che è la segretaria del settore giovanile Non l'ho vista, spero ci sia Citiamo anche Francesco Feltrin che è il responsabile del settore giovanile Marco Zagallo team manager è con noi Sta arrivando Abbiamo già qua sul palco con noi Giorgio Betrò del marketing E inviterei anche Giorgio Scappini sempre del marketing E David Michele se ci sono Che è responsabile dell'area partners del maestre Quest'anno c'è stato un grande incremento Visto l'interesse della squadra, anche dei nostri sponsor Che ovviamente non è il momento di citarli Ma che ringraziamo tutti, molti anche dalla città Che si stanno risvegliando e si stanno avvicinando alla nostra squadra Ovviamente però la parola va al principale artefice Di questa grande cavalcata di questi anni Come vi dicevo, pensate, è stata presa Questa persona che adesso vi presenterò Ha preso una squadra in prima categoria E in pochissimo tempo ci ritroviamo Fra i grandi del calcio, fra i professionisti Pensate che noi quest'anno giochiamo contro realtà storiche Come la Reggiana, il Vicenza, il Padova Quindi per noi è veramente un grande onore Lui è il nostro presidente E si chiama Stefano Serena Eccoci qua Stefano, io non ho nessuna scaletta Andiamo così a braccio Quindi io direi che Ricordava chi siamo noi Non è citato chi siamo Come no? Noi siamo la Cimestre Associazione Calcio Mestre Signora Ok, siamo la squadra della città Pensi che lo scudetto che portiamo sulle maglie Riprende esattamente la raldica della città di Mestre Quindi poi c'è stato La curiosità è che Noi siamo arancioneri La curiosità è che C'è stato un cambio Negli anni 40 Di colori sociali Per una questione che non staremmo qui a raccontare Però originariamente Non solamente C'è il simbolo della torre sul nostro scudetto Ma c'erano anche i colori Dello stemma medievale Che era un rosso granata Che poi è virato in arancione Ma adesso tutti noi siamo affezionati al nostro arancionero Quindi ce lo teniamo ben volentieri Adesso direi che Stefano in rappresentanza di tutta la società Può dire due parole Visto che siamo qua per gli auguri Insomma Lascio volentieri a lui il microfono E dopo vedete Alla vostra sinistra La squadra che inviterò a salire sul palco E magari preparo già il nostro direttore sportivo Che ce li presenti uno a uno velocemente Insomma D'accordo? A te Stefano Beh non farò molti discorsi Perché lascio Andrea E che è molto più bravo di me a parlare Cosa posso dire? Nulla Siamo qui Riuniti anche quest'anno Devo dire Sono orgoglioso di essere Riuscito assieme ai miei collaboratori A portare il maestro nella categoria che più le appartiene Cioè tra i professionisti dopo diversi anni Questo è un impegno molto importante Perché ciò che c'è dietro una squadra di calcio Pochi lo sanno E devo dire di essere uno tra quei privilegiati Privilegiati però Una parola Che forse Travisa il vero pensiero Nel senso che è molto complicato Davvero riuscire a A sostenere un impegno Soprattutto per noi mestrini Che ormai è una cosa detta Stradetta Non voglio alimentare nessuna polemica Ma forse chi ancora Tra voi O tra noi pochi E che ancora non sanno Ma pensiamo di essere forse L'unica squadra in Italia Professionista Che non ha uno stadio Non ha uno stadio Nel senso che Il baracca Che tutti Magari abbiamo sentito nominare Purtroppo non ha Le caratteristiche idonee Per poter fare Il campionato di Serie C Quindi Chiaramente Questo significa E ringrazio anche Tutti i miei Più stretti collaboratori I giocatori L'allenatore Lo staff I tifosi Che per andare a vedere E noi per giocare La propria squadra Dobbiamo fare Tanti tanti chilometri E privarci magari anche Dell'affetto di questi Nostri giovani Ragazzi Della scuola calcio Dell'academy E del settore giovanile Che magari potrebbero anche Venire a vedere La propria squadra Ma per una questione di distanza Legate poi anche alle partite Che loro stessi giocano La domenica Questo ci impedisce Purtroppo Di poter avere I nostri giovani tifosi Allo stadio Per cui Approfitto Dell'occasione Di fare Un grosso In bocca al lupo Ovviamente Alla squadra Siamo ormai giunti Alla fine Del girone Di andata Inizia Un nostro Un altro girone Quello di ritorno Dove contiamo Di fare Bene Come assolutamente Sono estremamente convinto Che abbiamo fatto Fino ad oggi Il margine di crescita A questa squadra Sono convinto Altrettanto Che ne abbiamo Per cui L'augurio è Che possiamo dare Altre gioie Altre soddisfazioni Alla nostra città di Mestre E quindi Faccio un grosso In bocca al lupo Appunto Alla squadra E tanti auguri Di buon Natale A voi Alle famiglie E a Mestre intera Grazie Grazie Stefano Io direi che Dopo Il nostro Enrico Vuoi dire due parole Anche tu Fare un augurio Allora tu presenterai I giocatori Uno a uno Però insomma A capo Di tutto Questa avventura Dal punto di vista Tecnico Io direi Che due parole Valga la pena Farle fare Al nostro grande Mister Vieni Mauro Lui è Mauro Zironelli Buonasera a tutti Volevo ringraziarvi Per essere così Numerosi Soprattutto I ragazzi Del settore giovanile Niente Promettiamo Intanto faccio Gli auguri Di buone feste A tutti quanti A tutti i mestrini Cercheremo Anche nel giorno Di ritorno Di farsi rispettare Cercare di Di proseguire Non siamo in un momento Facile Lo sappiamo Però Contiamo Di rimetterci in sesto Al più presto E di continuare Nella cavalcata Che ci ha accompagnato L'anno scorso E che speriamo Continui Fino alla fine dell'anno Grazie a tutti E buone feste Grazie Grazie Mauro Grazie Mauro Ovviamente resta qui Con noi Non drammatizziamo In realtà siamo Una neopromossa Siamo Siamo in una Buonissima classifica Per essere una neopromossa Quindi ci possono essere Un paio di partite Sbagliate Ma insomma Capitano anche I più grandi Come sappiamo Quindi stiamo vicini Alla squadra Mi raccomando Io direi Che prima Di lasciare La parola Per la presentazione Della nostra squadra Al nostro Direttore sportivo Due minuti Dedicati Spero a questo punto Perché Che ci sia C'è un ragazzo Fra di noi Intanto Grazie Grazie a tutti i nostri Ragazzi Dell'Academy E del settore giovanile Presenti Che so che dopo Hanno una cena Mi pare La cena di Natale Quindi faremo Molto veloci Grazie per la vostra presenza Fra di voi Nella nostra Grande famiglia Del calcio mestre In particolare C'è un ragazzo Che qualche mese fa Purtroppo In un momento di gioco Involontariamente Ovviamente Nessuno ne ha colpa Ma sono le cose Che accadono nella vita Ha subito Un infortunio Di quelli gravi Di quelli veramente brutti Ha dovuto Subire diversi interventi Ma lui Lui Ha un grande cuore È voluto Tornare in campo Con i suoi compagni Al più presto Lui fa parte Anche attualmente Quindi dell'Under 15 Noi Per quanto poco Visto che abbiamo Qua la squadra Vorremmo Mi ha detto La mamma Che sarebbe stata presente Qui oggi Invitarlo sul palco Perché insomma Un minimo Un applauso Un applauso Lo merita Lui si chiama Michele Cipollato Michele Vieni qui con noi Per favore Eccolo qua Penso che sia lui Si sta avvicinando E anticipiamo Già La salita sul palco Di un giocatore Un grande giocatore Noi tutti a Mestre Abbiamo imparato Ad amarlo davvero In mancanza In questo caso Del capitano Perna Perché so che Penso che sia una visita Medica Chiamo qua Marco Beccaro Per favore Per accogliere Il nostro Michele Eccolo qua Michele Cipollato Grande Michele Grande Michele Benvenuto Benvenuto fra noi Lui è l'esempio È un grande orgoglio Per noi La sua voglia Di tornare E indossare E indossare Questa maglia È stata enorme Ha avuto Delle grandi Fidatevi Delle grosse Grosse difficoltà Però è qui E credo Che questo Piccolo onore Gli sia assolutamente Dovuto Davanti anche Al presidente Serena E con il nostro Mitico Marco Beccaro E quindi Facciamolo vedere Facciamo bene La consegna Il gagliardetto È stato firmato Da tutta la squadra E è un piccolo Riconoscimento Perché lui Sia veramente Un esempio Per tutti i nostri Ragazzi Grazie Grazie ancora Michele Ovviamente Sei invitato Anche in tribuna D'onore È una delle prossime Partite Ti faremo avere L'invito Per te e la tua famiglia Allo stadio di Portogluaro Pullman E via Ok Grazie per essere con noi E per essere affezionato A questi colori Bravo Enrico Dai Li conosco tutti Anch'io Però siccome Forse Ci sono un paio Di defezioni Uno In ordine Sparso Ragazzi Enrico Dirà il vostro nome Per chi non vi conosce Enrico Busolin Direttore sportivo Della situazione Calcio Maestro Buonasera a tutti E porgo E porgo Anch'io I migliori auguri Buone feste A tutti quanti Iniziamo dal più giovane 98 Filippo Bonadi Andiamo avanti con i portieri Riccardo Gagno Gianmarco Zironelli Aladin Ayub E Alessandro Favaro No Il più giovane Nico Chiruan Luca Lavagnoli Nicola Stefanelli Massimo Busi Alberto Rubbo Andrea Boffelli Alberto Spagnoli Emanuele Politti Emanuele Politti Alessandro Fabri Matteo Gritti Dario Sottovia Dario Sottovia Gian Pietro Zekin Leo Netto Pereira Marco Beccaro Felipe Sodinia E il nostro mestrino doc Stefano Casarotto E il nostro preparatore dei portieri Glenn Furla Bene direi Allora Prima un altro Piccolo fuori programma C'è un gruppo Di bambini Della nostra Academy Che prego di Farsi spazio Fra la squadra E salire sul palco Perché mi sembra aver capito Che c'è un piccolo Presente Che vogliono consegnare Da parte di tutti Di tutti i nostri Istruttori Allenatori Dell'Academy Per il nostro presidente Venite Venite ragazzi Venite Venite Attenzione Che alto qui Eccoci qua Un applauso Al nostro futuro Andrea Andrea Ed eccoci qua Allora facciamo Una bella foto Ufficiale Ci mettiamo Presidente al centro Il mister al centro Squadra intorno Dai Così ci ricordiamo Anche di questa Facendo Io ovviamente Mi metto in parte I protagonisti Sono loro Facendo Tanti 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 auguri In primis Ovviamente La nostra squadra Che porti sempre Alti colori Eccolo qua Fabrizio Coniglio Grazie per essere Anche lui Con noi Ricordo Ricordo A questo proposito Un'iniziativa Veramente importante Che è stata siglata Quest'anno Il mestre La prima squadra Professionistica D'Italia D'Europa Di calcio Che può Ha l'onore Di portare Nella propria maglia Nella propria divisa Da gioco Il logo Del Panatron Lui è il presidente Del Panatron Di mestre Quindi è un orgoglio Ulteriore per noi Grazie Anche a te Fabrizio Per la tua presenza Questa sera Detto questo Se dalla nostra Regia audio Ci rimanda Il sottofondo Del nostro inno Io direi Che possiamo Chiudere qui Rinnoviamo Davvero Gli auguri In primis Ai nostri Campioni Perché tali sono Perché rappresentano Con lo scudetto La nostra città Di mestre Perché noi siamo Siamo favorevoli a tutte le globalizzazioni del mondo Ma l'importante è ricordare la propria identità Qui siamo al centro di mestre E questa è il mestre La nostra squadra Che rappresenta la nostra città E non ce ne dobbiamo mai mai dimenticare Possiamo andare ovunque Però tenendo sempre alto il nome della nostra città Senza mai vergognarci Detto questo Auguri Auguri ancora a tutti voi Attenzione Perché dopo Giustamente I bambini dell'Academy Faranno una foto C'è il Presidente Aspetta un attimo Con il Presidente Con la squadra Quindi anzi Ragazzi Dai Tutti sul palco Non fatevi male Piano E facciamo una foto Tutti insieme Piano Piano Ci sono le scale Non facciamoci male Con noi da qualche parte C'è anche la voce La voce di mestre Bruna Malaguti Grande DJ Che anche a questo punto Invita anche lei Nonché nostra tifosa A salire sul palco Bruna Ci sei? Sarà me E per chiunque volesse La serata Proseguirà Qua A 20 metri E vuole unirsi Alla squadra Per uno spritz Aperitivo Prindisi Augurale Siamo Alba Sport Altro locale Amico Amico Della cimestre Quindi vi aspettiamo Tutti là Informalmente Se vogliamo Fare due parole E bere qualcosa insieme Poi so che i bambini Devono scappare Eccola Grazie Questo è il regalo Da parte di tutto il nostro settore giovanile E l'academy La targa Grazie presidente Penso che siano Conoscendo il nostro presidente Le migliori Davvero Le migliori soddisfazioni Il riconoscimento Da parte dei più figli E so già Che sarà In bella vista Nel suo offizio Grazie a tutti Grazie Grazie davvero Ancora a tutti E da parte Dell'associazione Calcio Mestre Buon Natale E buone feste A tutti quanti Per chi vuole Ci vediamo Alba Sport Qua vicino Grazie ancora a tutti E forza Mestre E forza Razzoneri Calcio Mestre E contro il vento Forza Mestre Col sole in faccia E sui amati La storia circonda Grazie a tutti Sotto la pioggia Forza Mestre E sui amati E sui amati Col sole in faccia